Salve a tutti ragazzi, qui è Simone Bulvirenti e oggi siamo tornati di nuovo su Brawl Stars. Come vedete qua abbiamo già una cassa già pronta e adesso la andremo ad aprire a breve. Comunque prima quando avevo fatto il primo video avete visto che avevo pochi personaggi, adesso qui c'è Tara e abbiamo anche due legendari. Adesso vi dirò come ho fatto a sbloccarli, abbiamo qua Sandy e abbiamo Sandy e Corvo, due legendari. E mi servono solo, ah ma vedete c'è anche Mortis che ho sbloccato adesso in questo momento. Poi c'è Maxime, un nuovo Brawler che gli è stato aggiunto io già ce l'ho qui, poi c'ho io, Bea, ovviamente è bene può mancare. E poi Piper, che non, diciamo che io non ho utilizzato molto perché c'era ancora il 3 di uno. Poi il nostro canale dico Frank, poi Pam, Bibi, Stecca, ovviamente non c'è Stecca anche di così, poi Beryl, Penny, Carl, Bombardino, il primo, Pocho, Rosa, Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock, Dynamite, Bo, Un suo robot, un suo robot e Pic-Pack. Mi sono fatto finire queste monete e come vedete mi mancano solo 4 personaggi, mi mancano 8 Blitz e Hans e i due legendari che si sbloccano nell'età e nelle casse. Non c'è bisogno che le compriamo. Adesso, prima di aprire questa bellissima cassa, andiamo a farci una partita su Raffa Gemma. Mentre facciamo questa partita su Raffa Gemma, vi farò vedere cosa, cioè, mano o mano vi parlerò, come ho sbloccato i due legendari, Maxime e Bea. Questo qua ne parleremo quando inizierò la partita che è Raffa Gemma, proprio ora. Siccome si è bloccato da poco, tic, 8 bit, oggi non ci arriveremo. Poi vi volete vedere, anche, non so se ci arriviamo oggi, il nuovo iPhone X. Non è proprio nuovo, nuovo adesso, però questo qua è uscito da poco, dopo l'iPhone X, quindi andiamo a farci questa partita dopo il problema dell'iPhone X e concludiamo. Bene, 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 bene. Allora, qui ho sbloccato Sandy in una gassonina. Come ho fatto sbloccato? Ehm, come ho fatto? Non lo so che ho fatto, veramente. E' uscito da così, per me. E' uscito da così, per me. E' uscito da così, per me. E' un pochino pochino, pochino che è... ...ci parli... ...visto con me parlare se ti sconsenti subito... ...sì... ...vado a... ...vi raffermate? Sottotit la prossima volta che mi fate perdere va bene questa possibilità di perdere va bene adesso possiamo iniziare a specchiettare questa cassa dopo che specchietteremo la cassa andremo a testare il nuovo iconics va bene allora vedete qui che ho trepassato Tic e la mega cassa si aspetta come un personaggio come abbiamo qui 8 bit abbiamo qui Hans poi abbiamo finito il gioco che cos'è? sono mega cassa molto bene ma che c'è arrivare a me? è un milione andiamo ad arrivare a questa cassa andiamo ci fai! no non c'è l'oggetto bonus ma l'oggetto bonus me lo potevi dare ok benissimo ora andiamo a testare l'iPhone andremo a testare l'iPhone X l'iPhone X ora ve lo faccio vedere meglio qui è l'iPhone X questo qui vedete che passa tutto perché bisogna prendermi? allora adesso ve l'ho fatto vedere poi nel prossimo video ve li farò vedere tutte le fotocamere come funziona cosa farà e come lo farà soprattutto come lo farà allora ci vediamo questo sabato questo veramente 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 questo sabato a testare e provare l'iPhone X e come fa le cose e dove le fa ma anche le fotocamere come le usa questo qua è da vedere sabato questo sabato da vedere su l'iPhone X e per oggi è tutto alla prossima ciao